L'anno che si conclude è un anno molto difficile, molto pesante, uno dei più difficili della storia della mia esperienza politica amministrativa. Il 2021 penso che debba essere un anno non solo del vaccino e della prospettiva futura, della possibilità di recupero del lavoro, dell'occupazione, dello sviluppo, della crescita. E per noi sarà anche l'anno del comune nuovo, del teatro nuovo, del raddoppio del depuratore, sarà l'anno del polo per la sicurezza, obiettivi molto importanti per questa comunità. Qui siamo a Montecchio, il cuore pulsante della città futura, un territorio che attorno a Montecchio ruotano oltre 50.000 abitanti, con una fluttuazione di altri 50.000 abitanti, che da un lato è un aspetto molto positivo, quindi anche il 2021 sarà positivo per l'attività produttiva, per l'attività economica, ma anche dal punto di vista dei contagi, come in questo caso delle vicende del Covid, che hai, diciamo, forti preoccupazioni. Abbiamo chiuso un anno molto pesante anche dal punto di vista delle perdite umane, a cui va sempre il nostro pensiero. E guardiamo però con fiducia, con speranza, con grande ottimismo nel 2021. 2021 sarà l'anno del vaccino, sarà l'anno della ripresa economica, sarà l'anno della riscossa delle difficoltà che abbiamo avuto e recuperando, guardando in avanti, per quel che riguarda Vallefoglia, sarà, diciamo, un boom di attività economiche private e anche di attività pubbliche. Ecco, citato 4-5 questioni, che sono milioni di euro di investimenti, che creano lavoro, occupazione, crescita e prospettiva futura. Quindi puntiamo, come sempre, ad avere un ruolo centrale in questo territorio di questa vallata e a far crescere. Prevediamo anche l'abbellimento della piazza di Montecchia, abbiamo messo circa 100 mila euro per arredarla, sistemarla, oltre che l'abbiamo già illuminata con tutte le lampade al LED, eccetera. E quindi faremo probabilmente dal 16 al 21, anche a tappeto questi tamponi per verificare quante persone ancora magari sono asintomatiche o sintomatiche per poter debellare quanto prima questo virus che affligge un po' tutta la comunità.